Questa è una storia che ho scritto un po' di tempo fa, che parla praticamente di un faro che si vede per chi, come me, fa la strada per entrare in palle scura. E' una luce che si trova esattamente tra le stelle d'autostrada. 1, 2, 3, 4... Già la fiamma sospesa nel cielo, ma le stelle d'autostrada, ogni notte mi illumina l'anima, ogni notte mi illumina a casa. Se ad un caso dovessi passare, mi sguardo lanciare solo a te, mi sentiamo la mattina di marzo, solo che il primo mitra si è spento. Teresina io quella mattina, ho pensato anche a te e a mia madre, e a quel bacio provato di sera, e figli di tuo padre. Teresina io quella mattina, te lo giuro qui starne è sicura, arrivato sul cielo del fosse, non ti nego, ho avuto loro paura. La paura è una strana compagnia, che ogni tanto ti viene a cercare. E' un bucani che cerca il suo altro, ecco un fiume che cerca il suo mare. Già trovati un giorno di marzo, nella Pasqua di Nostro Signore. E' lasciati a morire in un fosso, sotto i banchi di un angelo. Nella Pasqua di Nostro Signore, anche al pari di questa stazione, i due coscenti dell'ultimo viaggio, non si è saccuna. La Resolvenzione Già una forma sospesa in cielo, tra le stelle e l'autostrada, che ogni notte mi illumina l'anima, che ogni notte mi illumina carne. E' un Pasqua di Nostro Signore. E' un Pasqua di Nostro Signore. E' un Pasqua di Nostro Signore.